Non volevo spaventarti, sono solo curioso. Perché si veste come un rappresentante di Bibbie? Ah, capisco. Tu credi di essere l'unico sessualmente frustrato. E allora forza, bellezza, sono pronto! Sembra che ci siano tante cose di me che tu non conosci, mister Furbetta. Questo è per il tuo bene, ragazzo. Signor C, non mollare con me, papà. Grazie a tutti.